Siamo qui a Lauser con la presidente, la dottoressa Lina Arpaia, proseguendo un po' il filone dell'apprendimento permanente, questa sera c'è un incontro davvero interessante relativo al laboratorio di formazione creativa. Presidente, intanto parliamo di questi incontri, quindi questo filone che sta caratterizzando gli appuntamenti dell'Auser e in particolar modo il laboratorio di formazione creativa di cui ci si occupa nello specifico. Noi come Auser ogni anno facciamo degli incontri che tendono proprio a rendere le persone partecipi, attive e informati di quello che succede nella società. Ad ottobre iniziano queste attività che riguardano un po' tutti i settori della società che vanno dall'aspetto psicologico, all'aspetto sociale, all'aspetto sanitario e seguono il filone dell'Auser che è quello dell'apprendimento permanente. Quindi perché l'Auser è convinta che bisogna apprendere sempre, anche in età avanzata, perché bisogna apprendere e bisogna conoscere, perché il cervello secondo le ultime ricerche deve essere sempre in movimento. E quindi noi come Auser, quindi apprendimento, invecchiamento attivo, apprendimento permanente. Quindi stasera c'è la psicologa che, e non è solo stasera, quindi ci saranno tutta una serie di incontri, la prossima volta ci sarà il medico, l'altra volta ci sarà l'esperta della questione ambientale. Quindi sono una serie di incontri che facciamo dal mese di ottobre fino a giugno, diciamo ogni mese, ce ne sono due o tre. Per tenere la mente sempre sveglia e soprattutto creativa. Questo è il migliore antidoto contro l'invecchiamento. Ecco, il migliore antidoto, come dicevi tu, per allontanare, per tenere lontane quelle malattie degenerative che purtroppo costano molto alla società e rendono, diciamo, il cittadino invalido. Quindi noi vogliamo che gli anziani, se è vero che viviamo di più, perché le aspettative di vita sono aumentate, però è anche vero che dobbiamo vivere bene. Quindi noi come associazione facciamo questo e nel contempo pretendiamo che anche i servizi pubblici devono attivarsi per garantire a tutti gli anziani questi tipi di interventi sul territorio. Questa logica appunto di interazione tra servizio pubblico e volontariato, associazionismo. Sì, infatti noi tra i nostri incontri abbiamo anche gli incontri con i servizi sociali del Comune di Taranto, con l'ASL, infatti avremo come ospite il direttore generale dell'ASL, perché noi siamo associazione di volontariato, facciamo quel poco che facciamo. Fate molto, non poco. Avete un programma ricchissimo. Vogliamo sempre stimolare gli enti pubblici a fare sempre di più e bene. Questo è il nostro obiettivo. Perché noi siamo un'associazione che integra quello che fa il pubblico, quindi non vogliamo sostituirci al pubblico. E quindi vogliamo, anche se siamo persone di una certa età, vogliamo renderci sempre attivi e aiutare anche le persone che sono più fragili di noi, coloro che hanno delle difficoltà purtroppo, che sono meno sfortunati di noi. Grazie per la vostra presenza. Stasera iniziamo il ciclo delle conferenze con la nostra dottoressa Maria Teresa Gasbarri, che già molti di voi conoscono. È una serie di incontri. Partiamo da un tema molto importante che è quello di volersi bene. Cioè, volersi bene, partire da se stessi. Cioè, ognuno di noi deve voler bene prima a se stesse per dare qualcosa agli altri. Quindi è importante perché anche in questa comunità noi abbiamo bisogno che ci dobbiamo voler bene e non far finta di volersi bene. Bisogna rispettarci, ascoltarci, quindi non usare sempre sotterfugi, ma essere sinceri. E poi l'Auser è una comunità che si regge su tutti. Quindi rispettare se stesse, rispettare l'ambiente in cui si trascorrono delle ore e quindi è molto importante. Sembrano cose stupide, invece sono cose molto, molto, molto importanti. Allora, la parola a Teresa. Allora, cercheremo un po' di capire come possiamo volerci bene. Consideriamo che oggi sindromi quali depressione, attacchi di panico, si attestano epidemiologicamente, quindi a livello di diffusione nel mondo, al secondo posto, quindi sono al secondo posto solo dopo una patologia quale il cancro, il tumore. Quindi considerate quanto sia importante stimolare da parte di noi operatori sanitari la riflessione proprio su queste tematiche. Abbiamo parlato di esperti per quanto riguarda le varie iniziative dell'Auser, specialmente quelle finalizzate a combattere gli aspetti degenerativi dell'invecchiamento e ho al mio fianco la dottoressa Teresa Gasparre, psicologa clinica. Parliamo di questo laboratorio di formazione creativa. Ecco le finalità, gli obiettivi, gli strumenti che vengono posti in essere. Allora, questo laboratorio è un laboratorio caratterizzato dal poter stimolare in chi lo frequenta una riflessione. Non ha la pretesa di fornire degli strumenti con i quali poter affrontare la vita, ma sicuramente quello di stimolare una riflessione. E volersi bene oggi è un tasto dolente perché ormai andiamo tutti di fretta, la vita è frenetica e quindi l'importanza di fermarsi, riflettere su quello che può portarci a vivere una vita felice, una vita serena è importante. Questa formazione creativa stimola certamente le facoltà intellettive degli anziani, evita per così dire quell'impigrirsi. Vediamo spesso tanti anziani magari soli che così stanno in casa e magari si addormentano dinanzi alla televisione senza interagire, senza così rendere, mettere a frutto quelle che sono le capacità intellettive magari non più così brillanti come in età giovanile, però pur sempre presenti. Sicuramente questi laboratori fanno parte proprio del filone che abbiamo cominciato già a gennaio dell'apprendimento permanente e quindi permettono a tutti di poter partecipare attivamente, di potersi mettere in discussione, di simulare la riflessione su quelle che sono le tematiche più importanti dei nostri tempi. Noi possiamo creare degli strumenti, possiamo difenderci da questo attraverso proprio il volerci bene, perché il volersi bene è un balsamo che va a poter nutrire le nostre vite e a far sì che si possa essere più sereni, più felici. Queste iniziative per far sì che chi ha i capelli bianchi a una certa età sia sempre attivo, avete tante risorse da mettere a disposizione dei più giovani ed è giusto tenere la mente allenata, sveglia. Buono, buono, perché fa bene a noi anziani che stiamo soli, fa bene stare assieme agli altri. Questa sera volete apprendere queste tecniche, affrontare questo discorso del laboratorio appunto di creatività, di formazione creativa? Eh, saranno cose importanti per noi anziani. E da quanto tempo frequenta qui l'Auser lei? Tre anni, tre anni e mezzo. Contento quindi di queste iniziative? Sì, sì, buonissimo. Se noi facciamo attenzione, riflettiamo su come amiamo gli altri e quindi sul fatto che siamo attenti alle loro esigenze, ai loro problemi, che li perdoniamo, che dedichiamo agli altri del tempo, che rispettiamo le loro idee, ora dovremmo cercare di fare la stessa cosa verso noi stessi. Allora signora, un incontro per tenersi giovani mentalmente? La vera giovinezza è quella mentale, non contano le rughe, ma la freschezza mentale. Cosa si attende dall'incontro di questa sera? Beh, mi attendo che mi continui a far rimanere giovane, no? Proprio, ecco, aprendo un po' di più la mente e poi quello che verrà, verrà, insomma. Quando noi conosciamo qualcuno, una persona estranea, non un nostro amico, una persona che incontriamo per la prima volta, cosa facciamo? Cerchiamo di fargli quante più domande possibili. Tenersi giovani a livello mentale, come si fa? Ebbene, bisogna prima leggere, quindi leggere, insomma, esercitarsi continuamente. Sicuramente. Pure, io faccio molta settimana enigmistica e poi leggo. E ovviamente noi non abbiamo un tempo infinito, abbiamo un tot di tempo a nostra disposizione. In questo tot di tempo noi dobbiamo inserire quelle che sono per noi le priorità. Questa sera c'è anche la psicologa per consigliarvi le tecniche, gli strumenti per tenervi attivi e creativi. Per volersi bene, per volersi bene, mi suggeriscono, è la cosa più saggia, più giusta. Sì. Allora, la prima cosa che bisogna fare è quando uno ha una certa età, deve innanzitutto l'alimentazione, fare ginnastica, che è molto importante, e poi non stressarsi perché la vita è bella, basta poco per andare avanti. Cioè, voglio dire, se uno vuole bene una persona, lo deve dimostrare con i dati di fatto, altrimenti che bene è. Quindi tutti questi elementi portano a una certa situazione che ti fanno gioire nella vita e farti stare bene. Altro elemento importante è imparare a rilassarsi. Ora, la stanchezza dovrà pur servire a qualcosa. Se c'è, se qualcuno l'ha inventata, dovrà servire a qualcosa. La stanchezza, infatti, è una spia. È come la spia della mancanza di benzina nella macchina, no? Ci dice che la nostra auto ha bisogno di un qualcosa, ha bisogno di carburante. Quindi la stanchezza ci sta dicendo di fermarci e di rifornirci in qualche modo. Gli stacanovisti che cosa fanno? Non si fermano mai, continuamente. Loro sono attivi 24 ore su 24. Eppure avrebbero bisogno, invece di staccare un po' la spina, di fermarsi, di riflettere. Ma che cosa sto facendo? Verso dove sto andando? Come vedete, perle di saggezza. I nostri amici dell'Auser ci hanno dato degli spunti di vita vissuta e io dico anche degli impulsi forti a chi è più giovane per tenersi sempre attivo perché la vita è bella e va presa non con pesantezza. E ora una breve sosta per gli obblighi pubblicitari. Al rientro, una nuova parte di Polifimo. Restate con noi.